Quando nel 1765 l'ultima dei Medici apria alla visita le collezioni della Galleria degli Uffizi per dare la possibilità a tutti di vedere tanta bellezza da vicino, mai forse avrebbe pensato che un giorno qualcuno l'avrebbe visitato e stando comodamente seduto a casa sua, navigando all'interno di un tour virtuale che quasi ti fa toccare le opere. Così oggi, seppur tutti o quasi ci siamo convertiti alla veste di internauti, pochi di noi possono immaginare quale sarà la fruizione futura del patrimonio artistico affidato alle immaginifiche potenzialità di comunicazione dell'intelligenza artificiale. Ci ha provato a disegnare un possibile scenario futuro partendo da quello che già oggi esiste in campo nell'ambito di nuove tecnologie applicate alla museologia, il convegno organizzato a Gualdo Tadino da Ili Editore insieme al Polo Museale di Gualdo Tadino. Angela Maria Scullica, direttore editoriale di Eli, ha condotto la tavola rotonda che ha messo a confronto esperienze diverse da quelle messe in campo a Perugia per comunicare la mostra dedicata al perugino, il meglio maestro d'Italia, a quelle che Archimede Arte ha predisposto per la digitalizzazione del museo di Casa Cagliani a Gualdo Tadino, dedicato agli antichi Umbri. I saluti del direttore del Polo Museale, Katia Monacelli, del direttore della Fondazione Perugia, Fabrizio Stazzi, del sindaco della città, Massimiliano Presciutti. Quindi il dibattito con spunti di riflessione offerti, tra gli altri, da Maurizio Vanni, museologo dell'Università di Pisa, sul rapporto già oggi esistente tra l'uomo e l'intelligenza artificiale, non uno scontro ma una collaborazione tutta da costruire. Se ci si domanda quale sia preferibile tra una guida umana che ti accompagna nell'esperienza museale o un artificiale con tutte le sue potenzialità esplorative, la risposta è un compromesso. Guardi, prima di un convigno le rispondo così, poi magari dopo riguarderò la mia risposta. Algoritmo, dati da inserire e l'intelligenza artificiale che li processa. Facciamo inserire i dati a un bravo storico dell'arte e forse troveremo un buon compromesso. Il convegno era inserito nella progettualità di METU, i musei e territori Umbria di Nord-Est, che riunisce, oltre a Gubbio e Gualdo e Tadino, i piccoli comuni appenninici con Gubbio Capofila. Un progetto nato per accrescere massa critica e progettualità in realtà e territori solo apparentemente marginali. Dunque, il progetto nasce nel 2020, grazie all'impulso e al contributo della Regione Umbria, che dal 2020 appunto ha suggerito di formare delle reti per ottenere dei finanziamenti relativi alla legge regionale sui musei. e grazie a questa possibilità il Museo Civico Palazzo di Consoli si è fatto promotore di un progetto allargato, di cui è Capofila. Il progetto intende raccogliere i musei del territorio, farli dialogare, farci anche semplicemente conoscere, perché in alcuni casi proprio non ci conoscevamo. E quindi è nata una relazione, che è una relazione in primo luogo personale e professionale, dalla relazione, dal dibattito, sono nate delle idee che hanno portato alla realizzazione di alcuni prodotti, che sono prodotti fruibili sia online, ma molti di questi prodotti sono diciamo l'online è un mezzo per poi anche fruire di questi prodotti offline. e quindi sono kit didattici, itinerari storico-artistici, naturalistici e anche semplicemente video promozionali del territorio, che sono utilizzati nelle pagine Facebook e Instagram della rete. Perché questo progetto ha offerto l'opportunità ad alcuni musei, oltre ai musei di Gubbio e ai musei di Gualdo, che avevano già una struttura organizzata dal punto di vista della comunicazione sociale e internet. Altri piccoli musei del territorio non avevano un sito, non avevano pagine, quindi ha offerto la possibilità di avere una visibilità.